Salve a tutti gente, sono AlexPios e oggi siamo di nuovo sui tornei. Bene, direi che... Io ho deciso di portare per ora come contenuti solo i tornei di Clash Royale e se magari volete qualche altro tipo di contenuto basta che me lo scrivete qua sotto nei commenti e io lo porterò. Bene, direi di andare subito a continuare il torneo senza perdere un attimo di tempo. Allora, questo... Ragazzi mi dovete ancora dire che arena è questa, che non lo so ancora. Però vabbè non è importante, speriamo che vali tutto bene l'attacco. E boh, ok, questo mi ha messo il gigante, direi di mettere subito questo. Sai amico mio che hai perso, vero? Lo sai, vero? Anche perché questo che è insieme mi ha messo anche il moschettiere ma non è preoccupante il moschettiere, fidatevi di me. Per la velocità che gli distruggerò tutto non è preoccupante. Allora, lui mi ha già distrutto una cosa. Adesso, visto che adesso qua... La situazione è tragica che forse mi buttano, c'è il mega sgherro. Ragazzi qua mi ha distrutto. Bene. Che bella partita di merda, ragazzi. Questa proprio è andata proprio di merda. Allora, siamo partiti malissimo. Cerchiamo di fare due vittorie almeno oggi, dai. Procediamo. Allora. Allora, ragazzi, boh, basta. Io cambio stile di attacco adesso. Vedrete che attacco... Attacco meglio stavolta. Allora. Aspettiamo che mi attacca questo deficiente qua. CTV. Cazzo di nome è. Vabbè, allora facciamo così. Tanto c'ho lo specchio, quindi... Ok. Non ci produciamo un po' di desiderio. Ok. Questo ho messo il wizard. Perfetto. Allora, il wizard non mi crea problemi. Per niente problemi. Direi il pecca. Ecco. Quello è un problema. Perché il mastino è stronzo. Allora. Io direi subito di andare velocemente a distruggere tutto. No. Merda. Ragazzi, farò una brutta fine qua. Lo sapete, vero? Anche perché se il mastino muore, si divide in tanti cosini e quelli sono stronzi. Bastardo. Guarda che pezzo di merda. Nonno santa, ti stuprassero male. Ok. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Questo ha già attaccato col mastino, quindi io ci posso mettere anche il domatore. E questo, in teoria, non si può difendere. Ecco. Si è difeso con quello, ma non hanno chance quei cose. 1-0 per me. Bene. Benissimo. Non bene. Benissimo. Direi che anche col pecca dovrei riuscire a buttare giù tutto. Pecca e stregoni. Perfetto. Dai, 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 cazzo, dai, cazzo. Raga, forse ho vinto. Forse ho vinto. Sì, ho vinto, raga. Ho vinto, vinto, vinto. Perfetto. E siamo una sconfitta e una vittoria. Allora. Speriamo che vadi bene. La prossima. Perfetto. Altre tre carte. E altri soldi aggiunti. Perfetto. Allora, la prossima deve essere una vittoria. Speriamo. Ragazzi, io adesso devo cercare di far vittoria. Arena 4. Ho capito come giocare con questo mazzo. E ora so come giocare. Perfetto. Però ragazzi, mi sono difeso bene con quello col mastino. Devo essere onesto, mi sono difeso bene. E ho attaccato anche la grande. Questo non attacca, manco per il cazzo. Vabbè, lo stregone di ghiaccio non mi crea problemi. Ecco. La scintilla invece ne crea un pochino tutta sta scintilla non può. Ragazzi, questa è tragica, questa partita. Parecchio tragica. Porca troia. Allora. E vabbè, madonna sante, che è? Ragazzi, questa è tragichissima. Vai. Ok. Eh sì, vabbè, due stregoni. Due stregoni di ghiaccio. Allora ragazzi, io adesso uso il pecca in difesa e ci butto il domatore di qua. Perfetto. In teoria col domatore faccio un sacco di danni. Abbastanza, sì. Più o meno. Un culo, stregone di merda. Madonna, dico la madonna. Ok, ci mettiamo questo dietro così almeno posso essere difeso. Cioè il pecca viene difeso. Viene difesa una sega, viene difesa. Allora ragazzi, questa non ascolta, ascolta, ascolta. Tu, la finisci con sta scintilla del cazzo. Porca troia. Bene, 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 bene. Allora, per ora dalla scintilla. No, che cazzo, adesso basta. Porca troia. Dai. No, 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 no. Mi deve colpire la torre. Eh, ciao. Me l'ha presa la torre, ragazzi. Allora. Dai, pecca, dai, pecca, dai, pecca, dai, pecca, dai, pecca, dai, pecca, dai, pecca. Ok, ora per difendermi posso difendermi. In teoria, sì. No, 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 no. Cosa brutta, cosa brutta, cosa brutta. Voi, 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 voi. Ok, 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 uno, uno. Merda. Merda, ho perso il torneo. Vabbè, ragazzi, questo aveva stregone e scintilla. Che cazzo posso farci io, dai. Vabbè, vediamo il baule. Apriamolo insieme. Non troverò niente come al solito, eh. Scarica. Ci potrebbe essere la epica. Eh. Eh. Devo essere onesto, non è andato proprio male. Vabbè, ragazzi. Eh, purtroppo il torneo è andato così. Ho perso, vabbè. È tosta, eh. Ragazzi, veramente è tosta. Io adesso lo rifarò, il torneo. Eh, boh. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. E alla prossima, belli. Ciao. 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 Ciao.